Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video, sono Mario Reclaimer, oggi andremo a giocare a Clash Royale, si Clash Royale, lo stai registrando e ci sarà questo video, lo andrò a portare poi il giorno seguente, praticamente giocheremo a Clash Royale, cercheremo di salire in Arena 3, spero perché ragazzi sapete che sono bravissima, se non avete visto la live andrò a vedere, è durata poca, poi laggava, quindi avevo pure un bel telefono scarico, quindi non sopportava, c'era pure ogni tanto che non sopportava perché c'era un lag impressionante, probabilmente non si poteva giocare, quindi non ho più fatto la live, ce la dovrei lavare, ora la leverò, vedete già sta cominciando a giocare. vedete, vedete, è laggo un po' perché non so, no, ho io una connessione scariccia l'ora, ed è molto potente al segnale delle mie connessioni, di ora, no, 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 ok raga, un attimo e ci rivediamo, ragazzi ho fatto una piccola interruzione perché devo fare una cosa, ma ora, siamo qua, e praticamente possiamo continuare, qua sarò nella mia postazione, questo è il mio pc, che non funziona bene, poi c'è un altro asus, che diventa pure tablet, e è finirata, giochiamo la battaglia, quella lo dovete levare perché ovviamente non funzionava, allora ragazzi le parti noiose ve le taglierò, quindi ci vedremo nelle parti successive, no, un attimo con il troll, facciamo un po' con il troll, non può trollare, ci vedremo Rules quasi la c'è la c'è la ok ok siamo qua ok ragazzi scusatevi mi sono andata per una fake quella fake che non aveva fatto ma c'è tanto spazio ora si dovrebbe vedere almeno spero come iscrivetevi al canale se la palla non ha trovato la fake allora sei tu Giovanni che sei tu Luigi che palla sto vincendo ma guarda come adesso mi faccio un filo in bici a padalli per cogli amici però raga ma non li per cogli amici figlio di buona donna esatto mi vuole mi vuole mi vuole cazzo ora lui mi fa cosa che mi vuole guarda come guarda come ragazzi vinciamo 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 il telefono con un plastico che ovviamente serve per levare le pille una due ore di sti cosi due uno due e da premere cioè per levare le pille c'è un tempo di forza è un pollo ragazzi farò un altro o altre o due altre questa sarà l'ultima o la prossima sarà l'ultima non so come mi viene più comodo a me però credo che questa sarà l'ultima perché oggi mi sono di notte e mi sta scaricando il cellulare perché l'ho usato tutto il giorno ho registrato pure quindi non lo so comincio a vedere pure non so se l'avete visto per un notte vi giuro non li sto dicendo cavolate ragazzi questi sono i pastori che spammano non ci spammano spammano perderete prima adesso è un provatore l'ho usato l'ho usato la l'ho usato il unwort rце non si credo però raga può essere che va in tipo royal non lo so raga era di livello 2 ok raga infatti questa cosa la leggo un attimo perché non mi serve per il live vabbè non lo faccio raga però vado a cercare con voi scrivetemi nei commenti se si se avete conoscito app praticamente di di come si dice non dei prank dovete ciao ma chi sei se ne frega io sono fami j sono youtuber per successo io non puoi fare queste tipo di cose ma fa cacca esatto se froccia grifondoro o serbe verde grifondoro no non è vero è duro si come no come no cogli l'occasione uomo come lo facciamo sto video in cura al mondo ma si dai facciamolo dai ma che dai e io c'ho i moni a vero perché sei favi j vabbè ciao c'è c'è pure quella di youtube vado a cercare l'app per mod che sono ragazzi sicuramente di quello perché ecco vedete molto anche pur crescendo io Sì, sì. questa no se sentite rumori non è colpa mia ragazzi niente non devi trovarlo ragazzi proviamo quella hack for cliche royale non capito spero che non sia illegale legge ragazzi aspettate che metto in pausa ma non leggo io ok ragazzi non lo dirò spero che sia un cheat non cheat perchè royale gemerator perchè non è una presa per il culo se voglio tipo cards guardate che che vabbè ti dice soltanto come vera gemerator ma non è vero così i nomi vanno su gemerator scommettiamo gemerator gemerator città grazie Grazie. 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 Io concludo qua il video. Per cui adesso ne vedrete le altre riflessioni. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi al canale. E questo è tutto. Se non siamo, non dico mai. Iscrivetevi al canale, mettetela. E alla prossima. Ciao.